Buongiorno, sono Enrico Restini, sono il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia ospedale di Andrea. Sono un anziano chirurgo curioso di innovazione tecnologica. Questo strumento permette di riprodurre i gradi di libertà che ha con uno strumento robotizzato, con uno strumento che è molto più semplice da utilizzare ed è molto più pratico da utilizzare. Il paziente chiede un intervento robotico perché prevede che il robot migliori la qualità del chirurgo e quasi nessun paziente vorrebbe essere operato dal robot. Vuole essere operato da un chirurgo le cui performance sono migliorate dal robot. Ovviamente il flex dà le stesse quantità di aumento di capacità di precisione del gesto che può dare il robot. La struttura è più precisa e quindi indirettamente è una struttura che ha minor rischio di, come dire, di descenza per motivi vascolari, per uniformità di tensione, per corretta quantità di tessuto che viene preso dentro la campata del lago. Poi abbiamo applicato l'uso del portagli con movimento robotizzato alle strutture intestinali, soprattutto per minimizzare le complicanze del colon destro. Le brecce delle enterotomie per entrare con le stapler sono il punto critico di questa chirurgia e in laparoscopia questo momento critico richiede una capacità di mettere punti. Il flex permette di poter eseguire una sutura al pari della conversione in open. Quindi il grande vantaggio è che un chirurgo ha la possibilità di aumentare, migliorare le proprie capacità di approccio alla sutura con uno strumento che modifica il suo angolo d'attacco e ti permette di essere più accurato nella sutura. Quindi lo farei, come dire, come un elemento che riduce la necessità della conversione chirurgica. Il flex aiuta il chirurgo a eseguire in maniera più corretta un'anastomosi. È un piccolo miglioramento ma è fondamentale perché può far passare l'intervento dall'aparoscopico a open solo per mettere un punto. Quindi anche se sembra un piccolo dettaglio, un piccolo passo, la capacità di mettere punti in situazioni complesse può veramente cambiare la sorte di quei pazienti. Io penso che la strada iniziata col portaghi in realtà permetta di pensare a un'evoluzione proprio della tecnica chirurgica. Queste strumentazioni possono permettere a una platea maggiore di persone di approcciare la chirurgia laparoscopica con maggiore sicurezza. Quindi la tecnologia, il flex, lex, come altri strumenti, tutto quello che rende più semplice, più facile fare interventi complessi, certamente avrà un grande impatto sulla qualità chirurgica complessiva. Grazie